Trieste contro Cantù, due piazze storiche della palla spicchi italiana, si contenderanno la Serie 1, nell'altra finale le pronosticatissime Trapani e Fortitudo Bologna. Si parte martedì 4 a Desio per una sfida che vede opposte la seconda forza del girone verde alla quinta del girone rosso, difficile riferimento alla gara persa il 17 febbraio senza Reyes in campo. I Canturini hanno chiuso la regular season con un record di 17 vittorie e 5 sconfitte, arrivando poi in finale battendo per 3 a 1 prima Cividale e poi Udine, quest'ultima sconfitta al supplementare in una gara all'ultimo respiro. Insomma, percorso più sofferto ai playoff per gli uomini di Devis Cagnardi che hanno però trovato due squadre probabilmente più in forma rispetto a Torino e Forlì, con cui i biancorossi hanno fatto però un percorso netto condito da 4 vittorie in trasferta. A guidare la squadra che vede come di esse Fabrizio Frates c'è il play, ma forse sarebbe meglio dire combo guard Anthony Hickey, un folletto di 1,80m capace di costruire per sé e per la squadra l'anno scorso protagonista anche in Europe Cup che viaggia ad oltre 14 punti e 4,6 assist a partita. Accanto a lui c'è Riccardo Moraschini, sogno del mercato di metà stagione anche per i biancorossi che oltre ai 10 punti garantisce difesa, solidità fisica e esperienza ai massimi livelli. A completare gli esterni in quintetto l'ala serba di formazione italiana Stefan Nikolic, 2,3 metri e quasi 10 punti a gara, mentre l'ottimo Lorenzo Bucarelli, guardia di quasi 2 metri, esce dalla panchina. Fornitissimo il pacchetto lunghi dal centro puro Christian Burns, con passato anche in nazionale, all'eccellente Baldi Rossi, realizzatore da oltre 14 punti conditi da 6,6 rimbalzi, sino al verticale Solomon Young, 13 punti e quasi 5 rimbalzi a gara. Una squadra con taglia fisica pari se non superiore a Trieste e grande muscolarità. Non ci sarà quindi il vantaggio sotto le plance che i biancorossi hanno potuto vantare nelle due precedenti serie playoff. Piuttosto risulta evidente che se sugli esterni l'apertura all'area avversaria potrebbe mettere in difficoltà i nostri piccoli, nel ruolo di Reyes, ovviamente schierato da ala piccola, sarebbe difficile trovare un canturino in grado di inseguirlo in movimento, andando alle altre chiavi e tenendo come assodato il rendimento di uomini come Ruzziere e Brux e chiaramente Filloi, l'uomo che, per classe e tiri impossibili quando servono, non esiste sulla panchina avversaria. Dunque, le trovate dell'argentino, l'atletismo in movimento di Reyes se starà bene e la panchina lunga nostrana, con i minuti qualità di Ferrero e Menalo in particolare, ma pure di Bossi e De Angeli, potrebbero rappresentare i tre aspetti in positivo in grado di orientare la serie per la squadra di coach Gemio e Christian.